video di ari 1 we are the revolution girl yeah e abbiamo c'è una domanda da parte di pan e quindi aspettate che prendo foglio che è meglio la prima domanda è da parte di anita che ci chiede quale sarà la nostra prima prova che c'è change your life o c'è change your life è un'idea se no fosse un'altra di stile italiano in italiano perché non si sa l'inglese un po' era la nostra prima idea perché change your life cambia la tua vita noi vogliamo cambiare la nostra vita mi piace solo senza trucchi mi piace se li perdi tutti mi piace anche senza non mi piace quando fai quando non si dormi ti piace soltanto se pesa il tuo braccio a fianco al tre il tuo cuore e cartier tendo pezzi di meno che dall'altro la vita è l'ultima parte del caso non sai pagare vuoi spendere via già sei bell'anna da nata la meta mancante non verrebbe nata io cerco il lì avevo una dose di dolore come si chi vuole il tè chi vuole il tè famiglia e poi abbiamo anche un'altra domanda da la charlotte che è tenni killer la charlotte che ci chiede la nostra amica che è ci chiede c'è il giardino e ci chiede c'è il giardino e siamo capito comunque ci chiede ci chiede se siamo siamo io ho in volo 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 comunque ci chiede se la nostra prima cover sarà spettacolare certo non siamo normali c'è alessandra che ti sta lavando sta facendo la scema vabbè vi avviciniamo ciao 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 bye 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 bye